La partita più scoppiettante è quella di Ghivizzano dove si ferma la marcia del Grosseto. I Maremmani passano in vantaggio nei minuti iniziali con Rinaldini, una rete che illude la formazione di Malotti. Il pari del Ghiviborgo arriva dal dischetto con Orlandi che trasforma. Prima del riposo Giannini ribalta il punteggio e porta in vantaggio i Garfagnini. In apertura di ripresa terza rete del Ghiviborgo con Carli. Sembra finita ma il Grosseto non molla la presa e grazie a una reazione di orgoglio torna in partita per merito di Davi. La rete del pareggio arriva con il solito Mazzierli in un pomeriggio che ha regalato le stesse emozioni dell'ottovolante. Il Livorno all'inglese doma il Sandonato Tavarnelle di Brachi. Curcio sul rigore gela le speranze dei Fiorentini. La partita della formazione ospite di fatto finisce con la seconda rete nel finale ad opera di Sabatini. Seravezza-Corzara a Trestina. Allo stadio Casini Puzzolo porta in vantaggio i versilesi. Il pareggio del Trestina del bomber Tascini. A due minuti dalla fine la rete decisiva è di Mugelli. Tanti gol a Forte dei Marvi dove è di scena l'Orvietana. Vantaggio Umbro per merito di Proia che supera così il portiere avversario. La reazione dei versilesi si concretizza con questa sfortunata autorete del Biancorosso Ricci che riporta il match in equilibrio. Greco riporta avanti l'Orvietana ma Cabruni fissa il risultato definitivo. Taus banca Poggi Bonzi. La squadra di Altopascia allunga con questo gol di Lombardo. Il raddoppio ospite opera di Zini. Il Poggi Bonzi torna in partita con Bellini ma poco dopo è Meucci che fissa il risultato definitivo. La capolista Follonica Gavorrano espugna San Giovanni Valdarno. Allo stadio Fedini il vantaggio è con il guizzante Suare. Il raddoppio nella ripresa per merito di Ampollini. Figline senza affanno doma la Cenerentola Cenaya. Il punteggio si sblocca con questo gol Lampo messo a segno da Diarrà. Il raddoppio gialloblu è per merito di Banchelli ma prima del tè segna ancora Diarrà che rotonda il punteggio e spegne qualsiasi speranza della squadra pisana. Chiude la vittoria della pianese sul Montevarchi in una roulette di emozioni che esalta gli amiatini e lascia invece la mare in bocca ai rosso-blu. L'oporto apre la serie delle segnature segnando in girata su azione da corner. Il raddoppio della squadra amiatina è per merito di Mignani in un avvio di partita da Incubo per gli Aquilotti. Il Montevarchi riesce a ridurre lo svantaggio per merito di Priore ma il minimo svantaggio dura per poco. La pianese prende di nuovo il largo prima con Mastropietro e successivamente con Boccadamo che allargano il solco. Negli ultimi 15 minuti dell'incontro si assiste al risveglio rosso-blu con Lischi prima e poco dopo con Boiga ma sarà troppo tardi per recuperare.